La disabilità può insegnare molto alla Chiesa nel suo insieme. È in tutto e per tutto un segno, sebbene in passato sia stato interpretato in modo diverso. L'incarnazione dimostra che Cristo ha assunto su di sé la condizione umana con le sue limitazioni e menomazioni. Egli, nell'operare le guarigioni, la trasforma nella vita divina piuttosto che farle sparire come una specie di magia. Egli si fa carico delle nostre limitazioni e ritorna dalla morte portando le sue ferite nel suo corpo umano risorto, ma sempre menomato. Le menomazioni e la disabilità diventano quindi una delle caratteristiche della limitazione e della fragilità umana attraverso cui pur risplendere la potenza di Dio. La menomazione evidenzia al tempo stesso il fatto che noi esseri umani siamo destinati alla comunione con Dio e con il nostro prossimo. La vita del regno di Dio, ora e in futuro, è una vita di interdipendenza degli uomini in Dio. La vita umana, come Dio nella Trinità, è relazionale. Le nostre qualità e talenti compensano le fragilità e limitazioni degli altri. La menomazione, che in ultima analisi è il destino dell'intera umanità, ci ricorda che per quanto belli possano essere i nostri corpi, siamo e restiamo una comunità interdipendente chiamata alla nuova vita in e attraverso un Dio che ci ha creati per amore suo e degli altri e la cui precisa essenza è la relazione. Justin Glenn in A sua immagine, figli di Dio con disabilità.